Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in vendita un appartamento uscito a Pavia e più precisamente la zona è quella di Viale Cremona. Si tratta di un appartamento in un complesso condominiale che è stato edificato nel 2008. Allora, vi identifico bene la zona, qua ci troviamo proprio in fondo in fondo a Viale Cremona. Praticamente davanti c'è una pizzeria. Allora, questo qua è un complesso praticamente rispetto a quello che c'è in zona, è un complesso nuovo. L'appartamento è un piano terra, poi abbiamo anche il box e la cosa bella è che abbiamo un giardino condominiale d'uso esclusivo, poi vi spiegherò. Allora, si tratta di un appartamento di circa 80 bar 85 metri quadrati. Abbiamo un bel soggiorno con angolo cottura, la casa è ideale per un massimo di tre persone. Ci possono stare anche in quattro, però tre è l'ideale. Allora, qua abbiamo il balcone, il balcone che poi grazie a questo cancelletto va a finire nel giardino condominiale d'uso esclusivo. Cos'è che vuol dire? Che il giardino può essere usufruito da questo appartamento, però condominiale cos'è che vuol dire? Che se un bel giorno decidete che in questo bel giardino grande volete fare l'orto, il condominio vi dice No, tu l'orto non ce lo fai, quindi te lo fa portare via, te lo toglie, lo sistema lui e poi vi fa pagare. Cosa bella è che essendo un giardino condominiale d'uso esclusivo, il taglio dell'erba lo fa il condominio. Perfetto, adesso ritorniamo dentro un appartamento. Allora qua, come avete già visto, soggiorno con angolo cottura. Praticamente qua è tutto nuovo, non c'è niente da rifare. Poi, cosa che c'è in pochissimi appartamenti, abbiamo il doppio bagno. Abbiamo il doppio bagno, quindi se nella coppia c'è magari la signora che utilizza tanto il bagno, voi non vi preoccupate che avete il vostro bagnetto piccolo, il bagnetto delle emergenze. Questa qua è la camera da letto matrimoniale, poi abbiamo il secondo bagno che è questo, che è il bagno con la finestra perché l'altro non ha la finestra. Ed infine abbiamo questa camera qua. Allora, io dico che è una camera singola, però con i vari letti a ponte che fanno, secondo me, ci può anche stare se poi fate fare il progettino. Infine abbiamo questo bel box, poi da quella porticina rendiamo un corridoio che poi accede all'ascensore che poi vi porta al pieno terra. Perfetto, se non vi interessa questo immobile potete cliccare su questa icone e ci sono altri immobili in vendita.